110 bambini sono fuori dagli asili nido comunali, questa la denuncia che avete lanciato questa mattina in conferenza stampa, un problema che nasce da lontano. Sì, purtroppo sì, un problema che nasce da lontano, che si è verificato, si è realizzato concretamente dal primo settembre, quando i sette asili nido comunali hanno riaperto i battenti e soltanto 160 bambini hanno potuto accedere. E' chiaro che questi 110 bambini si trovano oggi in difficoltà con le loro famiglie perché debbono rimanere a casa, se sono fortunati con un nonno o con un nonno, oppure debbono ricorrere alle spese di una babysitter. Quindi noi oggi abbiamo di nuovo riproposto quello che fu il nostro cavolo di battaglia allora nel 2009 e negli anni successivi, quello del progetto Unido per Tutti. L'invito che facciamo alla Giunta Alessandrini è quello di comprendere l'importanza della valenza sociale e di poter far accedere tutti i bambini di Pescara in questa fascia d'età da 0 a 3 anni all'interno dei nidi comunali e privati e quindi riaprire, adesso che stanno in fase di edizione del bilancio di previsione, un capitolo di bilancio apposito a favore di questa problematica. Questa è la nostra speranza e l'invito che facciamo sia al Sindaco Alessandrini ma anche all'attuale assessore al bilancio.